In questi ultimi giorni di dicembre, Fedez è riapparso sui social in compagnia dei suoi figli, dopo la tempesta mediatica che ha coinvolto Chiara Ferragni nella vicenda Balocco, mentre Fedez ha ripreso a condividere video dolci di Leone e Vittoria a Chiara. Dopo essersi spiegata sui social, è misteriosamente scomparsa. La sua assenza ha lasciato i fan preoccupati e curiosi di sapere quando tornerà a farsi sentire. Chiara potrebbe essere impegnata nel processo di smaltimento dell'enorme peso mediatico che la notizia ha avuto su di lei. Il silenzio sui social alimenta l'attesa e la speculazione tra i follower, desiderosi di conoscere i suoi pensieri e sentimenti in merito alla situazione. Al momento, però, non c'è alcuna traccia di Chiara Ferragni sui social, mantenendo viva l'incertezza su quando e come deciderà di fare il suo ritorno pubblico. Il silenzio sui social, mantenendo viva il suo ritorno pubblico. Il silenzio sui social, mantenendo viva il suo ritorno pubblico.